Musica Le caratteristiche dei recipienti ceramici per il vino e per l'acqua sono delineate in un viaggio nel tempo di oltre 3000 anni articolato in 4 capitoli. E' questo il catalogo della mostra Gioia di Ber presentato al MIC di Faenza, una mostra che analizza l'impiego delle ceramiche nella convivialità della tavola in ogni epoca. Oggi presentiamo il catalogo della mostra Gioia di Ber, una mostra che racconta gli stili di vita del bere e del mangiare attraverso appunto un elemento tipico della tavola che è il versatoio, versatoio d'acqua e da vino. Il catalogo è molto ricco di interventi che raccontano non solo dell'arte ceramica collegata a questa tipologia, ma raccontano appunto, come dicevo prima, gli stili di vita. Stili di vita che vanno dal banchetto romano al design moderno. Come è cambiata l'evoluzione anche della tavola, dello stare a tavola, del vivere in un discorso molto ampio, ricco e pieno di aneddoti. Quindi il catalogo è uno strumento fondamentale per la lettura di questa mostra e siamo molto orgogliosi di presentarlo oggi insieme ai curatori, catalogo edito dagli ori che sarà nelle più importanti librerie a disposizione ovviamente del bookshop. Siamo nella sezione delle ceramiche da vino e d'acqua dal Medioevo al XVIII secolo. In questa parte diciamo che il manufatto, la forma ceramica più fortunata e più diffusa è il boccale. Il boccale sicuramente è il contenitore per vino e per acqua più diffuso dal Medioevo e anche nei secoli successivi. Attraverso la fortuna del boccale e dei recipienti per il vino e per l'acqua è possibile anche tracciare un percorso di come si è evoluta la tavola dal Medioevo, che era una tavola più semplice, dove sulla tavola c'era un contenitore collettivo per il cibo, per il vino e per l'acqua invece venivano utilizzati contenitori sia in ceramica ma anche in peltro e in vetro e bicchieri con tronco conici, fino ad arrivare al Rinascimento dove la tavola diventa molto più ricca. Si afferma ad esempio il piatto individuale e anche i contenitori per i liquidi, per il vino e per l'acqua diventano sempre più elaborati. Quindi oltre alla forma tradizionale del boccale si affermano anche altre forme più plastiche, più elaborate che riprendono un po' i miti della classicità e quel gusto per le forme estrose bizzarre tipiche dell'epoca. Qual è il potere del vino nella cultura etrusca? Il vino è sempre stato visto come un simbolo, un simbolo culturale molto molto importante. Attraverso il vino, attraverso quella che è la liturgia, quindi tutta la ritualità legata a questa bevanda, l'elite etrusca, quindi quei gruppi che erano al potere, riuscivano a mantenere, a confermare e a tramandare nel tempo proprio questo ruolo di potere, di controllo verso tutta la popolazione. Quali gli atteggiamenti del mondo romano nei confronti del vino? Gli atteggiamenti del mondo romano nei confronti del vino sono ambivalenti, nel senso che da un lato c'è una forte attrazione per il vino, c'è una voglia di consumarlo e di consumarlo in questi ricchi convivi, dall'altro però c'è grande prudenza e la paura di berne troppo per poi perdere eccessivamente il controllo. Un altro importante aspetto nel parlare del vino romano è la frequenza con cui il vino circolava nel Mediterraneo, anche in luoghi come questo, come la Romagna, anche anticamente evocata alla produzione del vino, si consumava vino che veniva anche da molto lontano, si consumava certamente il vino locale ma si amava anche il vino un po' più esotico, se vogliamo, ad esempio in età tardorepubblicana è amatissimo il vino rodio. Oggetti del quotidiano e design del XX secolo e contemporaneo, qual è lo scenario? A partire dall'inizio del Novecento, quando si afferma la figura del designer anche nel nostro paese, si avvicinano a una serie di stili, di stimoli che provengono anche dalla storia. Qui alle mie spalle c'è uno dei pezzi che conclude il percorso dedicato al design in cui si vede chiaramente come Andrea Anastasio in questa collezione Volpedo reinterpreta la ceramica popolare restituendone però anche la gestualità sapiente, quindi attraverso queste corde ritorte che girano intorno alle anze riproduce la stessa fatica del mondo contadino e quindi pone un dialogo con quella che è stata la storia dei manufatti. Università di Bologna e MIC di Faenza, quale è il legame? Il legame è strettissimo e non è solo una semplice collaborazione ma è davvero un rapporto paritetico tra l'università che mette a disposizione del MIC le sue competenze e il MIC che mette a disposizione dell'università le sue collezioni, i suoi laboratori dove tanti nostri giovani possono fare pratica e possono mettere in pratica le cose che insegniamo all'università. Quindi è davvero un rapporto molto solido nel quale credo molto e di cui sono molto molto contento.